allora ragazzi praticamente sto montando la gabbietta pulito qui allora andrò a mettere la lettiera il suo bagno nel senso questo qua e l'andrò a mettere in questo angolino qua e qui semplicemente c'è la sua casetta che non è un grand che nel senso ma l'andrò a cambiare ma per ora teniamo questa e di fianco la sua cittadina di cibo adesso sto cercando di capire come mancare la sua ruota e la cosa per bere ok ragazzi praticamente ho fatto tutto ho messo il coso per bere, la ruota la casetta e qui adesso metterò la lettiera appunto devo mettere dentro il suo bagno la lettiera quindi adesso lo andrò a fare e lo andrò a mettere lì ho preso queste due lettiere una l'ho presa in un negozio e una in un altro siamo andati in due negozi uno in cui c'era anche il cresceto e in uno in cui c'erano solo accessori quindi ho preso due lettiere così ho la scorta e niente ora andrò a mettere qui dentro la lettiera andrò ad usare questa e niente allora praticamente ho messo lì la lettiera mi sono accorta che qui c'è un altro buco quindi andrò a coprirlo come questo l'ho coperto adesso andrò a mettere un po' d'acqua lì e un pochino di cibo e poi andiamo a mettere il cresceto vi faccio vedere tutti i cibi che ho preso praticamente ho messo anche un po' di cibo e ora dobbiamo mettere il cresceto lo faccio dentro così esce da solo ecco allora ragazzi ora andrò a mettere la gabbietta lì e ora vi farò vedere tutto quello che ho preso allora per prima cosa abbiamo ovviamente le lettiere che vi ho già fatto vedere poi questo cibo che mi ha dato la signora del negozio quindi vabbè poi nel secondo negozio da Arcaplanet che lì appunto adesso vi faccio vedere prima cosa altro cibo diverso che niente menù vital questo qui premium poi ho preso queste qui che sono le props allo yogurt e serviranno anche per fare dei dolcetti ovviamente senza zucchero vi farò dei video o su tiktok o su youtube poi questi qui che sono dei biscottini per ricetti e niente e niente e poi come poi ho preso queste qui che sono delle barrette niente delle barrette con uva e nut che sarebbero nocciole credo e poi basta e niente quindi queste qui per ora sono le cose che ho preso poi ovviamente insieme alla lettiera c'era questo qui per raccogliere le cacchette che fa e niente allora spero tanto che questo video vi sia piaciuto ora vi lascerò alcuni video del triceto nella gabbietta e niente ci vediamo al prossimo video ah poi è un maschio e si chiama vanilla